In vacanza gli arenili pullulano di primati pronti a misurarsi nelle più impegnative discipline sportive. Quale incomprensibile meccanismo trasforma normali creature, di solito buttate all'ozio, in esseri consacrati a un così irrazionale dispendio di energie? Ma la voglia di dissetarsi con un fresco e invitante è statè, per dinci! Perché dove c'è estate, di certo c'è estatè! Estatè, te best!